tanta magna per tutti ragazzi qui è mister guagna black e vi parla e oggi andiamo a vedere come trovare l'arma segreta o arma speciale come volete voi allora per arma segreta non intendo il cannone d'aria che avete visto rivisto più volte su tutte le guide su youtube ma intendo e che sarà che servirà anche per fare l'ester egg ma intendo il pugno d'acciaio quello che dà la scossa elettrica allora per prima cosa ci servirà uno dei pezzi utilizzati proprio per modificare il bus e il pezzo in questione è la mini scaletta una volta ottenuta la mini scaletta ci richiamo nella seconda fermata della mappa arrivati nella seconda fermata della mappa ci richiamo dentro il bar quindi apriamo la porta e andiamo all'estremità del bancone dentro il bar e troveremo una gratta sopra di noi quindi premiamo quadrato e poi x per poter salire sopra al tetto vediamo una sul muro un insegna un'icona luminosa e questa sarà il nostro pugno d'acciaio per soli 6000 punti potremmo avere quest'arma veramente fortissima che con un solo colpo diciamo dipende anche dal round che fate qui ancora eravamo a round bassi e con un solo colpo potrete uccidere gli zombie e niente questa è stata una piccola breve guida e proprio per per dirvi che a breve posteremo tutto l'estereg della modalità transit e è un po lunghetto e stiamo facendo tutte le cose passo per passo per farvi capire ben bene ogni passaggio quindi rimanete collegati iscrivetevi al canale per chi non l'avesse fatto e ricordatevi sempre tanta ma tanta tanta guagna per te ciao piccola ragazzi